xd allora vediamo allora facciamo una team comp da team ah beh ci serve un top poco vabbè allora tolgo un raiaccio per perciò non so che si sente rai d si si all'ultra. un gol e fu così che per essere ora una partita di brutto non mi piace vedere che si parla buon gol ma anche si buon gol e se ti pare non è tanto raiate e dovete per me secondo me è la cipolla ma aspetta ospetta aspetta guarda c'è il ciclo c'è il poliposiclope io non riesco mi metto in questa posizione no aspetta faccio così non riesco carcetto non è nemmeno e scrive velocemente edifici perché strizza avevate la strizza che non accettavo guardate giocati dead everybody e Francesca è vivo c'è ma ho scritto che sono andati in bagno raga everybody going to let si stava parlando male di te come se non è una novità ho reportato di Francesca no non puoi vedi che dopo devi aspettare il team ma non è una novità l'uomo l'uomo controllo del del pt no 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 work at the time screen con le direi di far di quantità chi deve mettere la storia di all'acqua no no E mi è partito, scusate No, se quando c'è tipo qualche kill Ci metterò qualche effetto suonare bellino e basta Tipo un pugno in faccia Il loro di carri è Miss Fortune Non lo vedo Eh, lo so, però l'ho visto, è Miss Fortune Allora, riporto Enrico È Kasai Senji Va bene È Kasai Senji Eh, vedi, non la vedi? Kasai, però non la vedi Secondo me Rise è Miss Secondo me Blitzcrank è Jungle No, perché forse prima ho usato Shaco e quindi no No, perché io no, non lo faccio C'è fortissimo con Ignite Non serve Flash Sì, come Zed, proprio, sì Non serve il tuo Flash Gnagnagnagnagnagnè Roberto, sei così inutile La tua esistenza Ecco, booo, get erect Adesso vado via da questa comitiva All'acqua e Akbar Comunque, raga, vinciamo solo per un motivo Perché hai la skin Perché abbiamo main e blitz Ma, oh, oh, a vero, addio E poi per un altro motivo, raga È vero, Enrico c'è la skin Guardi, ho messo a sette con blitz Raga, io sono main Ma, è comunque Ora è da tant... Wow, si scrive benissimo di Zed Comunque, è da tantissimo E ora non lo gioco Blitzcrank, eh? Tipo, un'ora fa No, è da più È da più Di una settimana Che non lo uso Ma, Pizze È il personaggio più Facile di questo Peter Non è vero È ulti E poi scappa E lasci la di che Dipende Dipende Sì, dipende Veramente, dipende Da come grabbi Se, 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 se Prevedere i dodge Poi, se sbagli Grab Fai lo stesso La E Ulti lo stesso Da solo E scappi Oh, sì Esatto Avrei da ridire, però No, comunque Ma Top 3 Deppendo sia Raid No No, Raid Viene mi Vabbè, io ho starto Di scudo Ah, ma Vogliamo invadere Invadiamo Invadiamo Infatti Vorrei invadere Il red e io Aspetta, però Hanno trash, loro Andiamo Hanno trash, tanto Tanto trash Starta di Starta di Deve startare Per forza Andiamo Andiamo Pollo 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 Arrivo Arrivo Vabbè Dada, dada, dada Dada, dada Dada, dada Aspettate Mi sto arrivando Puri No, tu no Adi, silenzio E' me ne va Dada, i oggetti Ragazzi Sì, mi chiami l'oro rosso Sì, ma vieni qui dove siamo noi però Ok, hai voluto guardare qui perché capii Non guardare Allora, jinxon, mai parte Estrullo, passare di lì, devi passare da qui Anche zed ho sbagliato Zed è cattivo Beh, vabbè, cattivo Ho anche giocato solo, raga La guarda qui no grazie a me lo fate da sol no ho paura scaccia ora penso anche il flasco torna a cui amico che è già un nemico fiddle tanto starta dal blu esatto quando i padri puto su grazie aiutatemi aiutatemi vado grazie amici vieni a fare la prima gank subito ora fermo qui fermo qui jinx aspetta aspetta mi butti ma io andiamo 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 let's go let's go everybody salve mi sfortuni mi sfortuni ho già c'è il 2 e quindi ti spavento no 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 si a cazzo duro dobbiamo partire a cazzo duro no e invece lo dico fondo anche se metteranno le liste le restrizioni ma io lo dico no let's do it let's do it la rampa devi andare a distru- fondo starta un pezzo di legno eh tempo che serve no 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 non posso grabbarlo perché ci sono i minion no no io volevo prenderti minion capito oddio ha visto ha visto che bravo che come sono bravo ti faccio anche farmare finire d e sprecala qui la bordo su la stessa attento a non farti grabbare vedrai mondo il tempo che avvenga posto sconso oa friggio qui friggio 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 la stit busto di cercare di la stitore e che cosa vuol dire proprio che è dagli l'ultimo colpo al minion oddio non riesco a prenderlo exosso su di me vieni via vieni via vieni via vieni via ok è ritornato buono buono vabbè ti è piaciuta la kill che ho fatto prima va benissimo hanno usato l'exosso su di me tutto hanno usato su di te no non tutto cioè solo l'exosso se usavano tutto usavano flash iall exhaust meno male io non l'ho utilizzato perché ce l'abbiamo vai questo te lo prendo io vai ti fai mai il resto te lo lascio per il carretto via uuh bravo ma allora sei bravo guarda sonomeno no ma lui è bravo solamente che lo devi incoraggiare ma va addirittura e se incoraggiato ragazzi insicuro francisco se non si tratta ma non esageriamo hanno fatto ancora una pente io non ho mai fatto anche io e prima l'ho fatta proprio la vista attento vai via ricollo io no no non te non te diceva a zed zed te ricordo perché guardo anche nelle altre line ah si no no pensavi che dicevi a me no no non stare lì perché ti grabba vai ora bravo ma do i vantos salvati vado dai ricollo anche tu eh io ho da visita la la mid è notato però no problem faccio il calzo del mercurio ben te l'ho fatto a sprecare lì la world benissimo quello che volevo non so che vai 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 tranquillo arrivo no 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 un altro voglio vietà no 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 ci sono ci sono cosa almeno poi romano un po' non stanno tutti no no mi sport mi sa che era collato no e c'è allora se ci sei io ci posso andare vado su di lei io attacco a lei attenzione sta fidendo però cerca di doggiare sempre allora aspetta stanno cercando di farla pushare la guida attraverso se volete oh ma ho usato una ulti che stupido ero dimenticato la sua ulti adesso dov'è il polipo polipo non ce la fa neanche a prendere il carretto non posso andare a mangiare controlla stavale vai sempre diritto sono andato fate il 6 con i miei minion no non ce l'ho fatto ho preso l'esperienza grangolino devi andare grangolino gankabotto che ti conviene dopo che fai ovviamente vorrei dovrei gankar più top vai 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 surprise motherfucker un po' non non te la faccio prendere la lanterna aprile mannaccia è la presa ora se mi date visione io la grazie io mi butto con l'auti non la vedo io vai 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 ce lo devo eh vabbè ragazzi mamaccia non so cos'è successo l'fps qua vado una piccola mamma mia me la fai si si ho preso anche nove di danni scusavo no non ti preoccupare help occhio vai via vai via vai via ecco l'ammazziamo mate no non ce lo faccio oh non ho più niente non ho più faccio faccio oddio surprise motherfucker non pensavo che me l'ha ulti eh la blitz aspetta no cavolo ho ricollato ce la fai c'è mi sta lì come una cogliona senza vita io la grabo certo no è affacciato infame eh non mi arrendo so che sei qui ben detta vero comunque la passiva di zed è rì aumenta l'attacco fisico anche quello come si chiama vuoi tu il 10% del giugno in vera in verità prende l'attacco cioè l'attacco fisico della ulti no non solo della ulti l'ho scoperto io da poco ah ah proprio normale eh rumo un attimo bella scusa mi serviva no aspetta no 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 bella io è bella cosa lo fa questo vengo da te aspetta surprise motherfucker ho capito ho capito no no so per corso veramente fastidio se non funziona un problema che sono solo non lo so cosa si pigia per evocarlo è il 4 si fa sta qua vendilo prodotto lo faremo di k4 sono più grosso io la maestria che cazzo vuoi eh sì volevi io ho più umana di te vabbè forse è un po' troppo presto vabbè forse è un po' troppo presto eh certo lo devi evocare sotto torre hai tipo penso d 다니essa ce l'hai la wire io non ce l'ho ok guarda che danno un muy guttik devo ricollare sto con te di e fomento bocalf Smith farmare sottotorre comunque e ti ho cambiato e il la e per farlo proprio per la un'idea ho detto vale che lo amazziamo io no il nuovo altro anno trovato ora la pazzo quindi che è il corso per il film per la vita di un lavoro no 10 raga e' vero carri e vieni vieni mi stai seguendo io di destino ma faccio schifo mi aiuti a prenderla persi direzze benedì non abilità ma posto 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 nuovo a proposito no basta garen ha il tp vero ok ce l'hai quando è pushata la linea tipo la nostra è pushatissima ce la fai a fare un tp ti ho messo una guarda qua ho messo qui guarda cala ho testo francesca che è nervoso e carlavor benedì carico tornavo attuale non è stata la vendita c'è un servizio regazio quando vuoi ok non mi puto l'ultimo ma una volta da mattare va bene cos'è qua metti una volta un bel po' di danni perchè stanno stanno aspettando una ganchetta all'ora giangla quindi la stitta e basta cioè cerca di dare solo l'ultima colpa al minio ho capito ragazzi che è stato troppo colo kill ok io ho fatto oh ora ora ok ora ma lo so fare solo che la schiena troppo piccola e ne riesca a no ah 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 no no c'è la w ti ha fatto proprio il pelo del culo ho visto ah ah c'è non hai bisogno più di andare dall'estetista scappa 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 dai io ti posso aiutare usa qualcosa di emma devo portare per voi no no che ulti no no niente niente c'è 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 sceglie testo l'esercizio e portare no l'ulto qui il u 8 o 8 m vieni 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 a corti che sono flesciato proprio al pino flesciato notato il suo ragazzo dvd presegato dovevi verso dovevi verso la botto colpa di robert ho preso te volevo io c'ho 3 mila ricordi e va bene mi metto paura a queste cose ok oh mio mi hai porto 4 arrivo c'è una finita qui in nocturne il vero no no vai botto vai botto osu. penso che aveva sopravvato qui qui fido 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 se riesci a prendermi aspetta vieni attenzione ragazzi state brutte acqua proprie di nocturne gg blitz grazie e gg garen che è abitato fino alla morte gg gg garen che è abitato fino alla morte ricollo eh attenta jinx ma c'è il trick 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 a che livello stai ok quando la prossima volta che tu recoli fatti il runan e prenditi il trinket blue no il runan no per te te lo devi fare su jinx te lo devi fare lo so ma non ha detto io che preferisco farmi lo static e riesco a farmare meglio no fidati ora fai il runan fidati di me la static la fai come quarto item fidati comunque dovessi fatti le ward ecco si si ora me le fò me le fò tranquillo barry quindi? il zed lo sa usare meglio? si ora come ora si apri la skin oppita ci sono ward è questo tipo? eh non ci sono ward no cazzo no 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 ho sbagliato stop no via 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 non spartolo fatti 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 non ho peccato non l'abbiamo assist via via vai non ho fatto vai che troppo no, non ho il grab guarda tre secondi mi sta tu a pagare no cazzo eh Non me l'ha aspettato Questa è un'esca Comunque Sì, non la togliere mai Il fondo all'alto, ma dai 5 Lo volevo dire io sta cosa Sto arrivando io Beta di Blitz Non la dubito che stanno ancora là, raga Guardi Eh, va posto Vedi, sono i cosi verdi là vicino Sono in fuoco La dietro stani così, vedi Fallo col fuoco con la freccia Oh, Simo, scappa Dice che è guardata Qua, qua Non seguire cosa Senti, ne Arca, ho troppi danni No Eh, non c'è il tipiso La cosa stupida che stanno facendo è lasciare in custodia Sta voltando No, aspetta Ah, ora va meglio No, no, non c'è che sta voltando Aveva, flashava Da dove la tirava te la schivava E' meglio che l'ho presa io Però avrei voluto provare a ruffare No, no, vabbè Mmm, ma è meglio che non tu sprechi l'ultimo L'assessi, infatti, subito con l'attore Comunque l'idea tu ce l'avevi e va bene Ah Kaita, Kaita, Kaita Eh, ora non più No, ora non più Non puoi Quattro, fai cinque tono Fidati, il runa, infatti Iniziati, il runa Come lo faccio? Sì, vedi che fai critico, attacco attack speed Sto arrivando E' il muro adattivo No, 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 non c'ho fuori Devo lasciare la torre Arrivo Ciao Vai via E' giusto, no? Eh, volevi Qui Uh, graba, no? No Vediamo Non lo stanno Ci sono, ci sono Via, 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 via Vieni, vieni, vieni 10 secondi, raga Bella Oh Fa, fa Ma io sto schiacciando cose a casa Ma no Qui Sto arrivando Eh, babbuchi Eh, vabbè Oh Ma che cavolo, raga, dove state? Qua Qua Va giù C'è nessuno che mi dà una mano Muori, vabbè Ma quanta cattiveria No No Me lo dicevi, stava arrivando Cioè, alla fine c'eravamo quattro di noi E alla fine nessuno più mi aiuta Pro Forca puttana Ma è chi Ho, ho fatto trentamila salti, raga Che, sono volato fuori dal gioco Ho gotto, raga Io ho schiacciato cursanti sbagliati Io ci facciamo attività Sto avendo a blick Il mio unico fastidio è Vercoz Vercozzo Vercozzo Ma soltanto che in bronzo non doggiano Eh, infatti Ma anche in silver è In gold è pure In gold sono già bravini In platino Arrivo Guarda Già in diamond tree E doggio in maniera assoluta E' doggio in maniera assoluta Ah, vieni Per rip Pizzate Ho detto che cardio Eh, voleva Voleva backarmi eh Dara, io non dobbè Anzi, no no Dormiti Tu sti qui eh Sto arrivando eh Io mi defullo un po' e vengo Miss fortune, raga Vuoi una mano, vale? Mi sono straincavolato io adesso Dai Sì 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 Oh, camminiamo sky Sta arrivando eh Minchia top Tipo l'hai sfondata Eh, raga C'è questo che è importantissimo dopo il runan che devo fare dopo il runan ma quanto sei 4 a 3 inizio a farti tipo aspetta un attimo avremo sangue intanto guarda trash che mi vuole grabbare però non mi grabba torte guarda che ci sono che cosa torna ci sono un periodo raga velcro focussare velcro ma io sei jinx vai jinx è multa no no allora vediamo facciamo una team comp da team l'uomo vabbè decisivo un po' po' io vabbè allora torno un ragazzo per per giocare non stop che si sente raga si in mezzo online questa partita se lo registi si si allora tra wukong garen undo e fu così che per essere una partita di brutto vabbè te la volevo lasciarla eh vabbè cosa mi volevi lasciarla non volevo chiamata o a casaccia vabbè zed fa troppi danni eh eh raga ma io sono stato fatto eh drake 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 qualcuno top però dai lascia la farm raga 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 sto venendo qui qui fuori fuori qui è andata tutto e non me la passate bene 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 qui 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 5 perfetto ok bravo bravo mi prendo il tempo che perde si però lo devi col fuoco lo devi fare eh raga sono morto eh non posso venire ad aiutare io che fai raga so lo so eh mi ha spaventato ho vendicato lo vedo ho vendicato oh ma c'ho quanti soldi c'ho che niente un'altra star guardian avvicinati di più è la testa fonda allo 88 metri va no allo che dilatta basta mi perseguisano no tu corri no esattamente surprise motherfucker man ho dovuto ho dovuto eri stunnato sennò arrivavano gli altri e ti uccidevano ho un colpo di dare fuori eh lo so eri stunnato ma eri stunnato no gang ecco romano attorno quello devi dare fuoco quello devi dare fuoco cosa accida dietro ahah no no hanno bauli verdi no il pelo del culo eh il pelo del culo gli ho fatto è pronto per l'estate è pronto per l'estate gli ho fatto la ceretta si infatti now you can go in malvato mi piace guarda 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 oh ragazzi stiamo ragazzi stiamo oh che fuggo ragazzi ma pura ci sono fatti cioè stiamo ma perchè è quello cross e vabbè c'è rotta rendita fresco mare vabbiamo fatto male hanno mai appệnattato e' normale ragazzi ok ci modollo rubi io non vengo facendo il fondo a comprare oggetto scusa ma ma c'è ma ci stai troppo a comprare era mi concentro 4. un certo perchè il tuo testo per me ma era bella un azione se lo facci benissimo non ma il porto percorso continua 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 guarda c'è la ciglia in canola un tavolo verso il quattro poi visto sciogliette il corpo l'ho fatta fare per poter e prossima volta jinx e seguimi l'ho 421 io di più eh vabbè stavento la madera rovina o idrafamerica prima mi hai sorpreso no bramasangue bramasangue si bramasangue da botrok graba graba ok faccio brava jinx però quando sei mili vai sempre di vai sempre di miligam raga adesso questi qua stanno tiltando quindi ci stanno perdendo in realtà non fanno che stanno perdendo si stanno perdendo non oh guardate questo per il corso avete visto sto per il corso io no si no 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 bella comunque va adesso da una cosa vabbè a me ne è morto alla fine mi sono tancati tutti io raga eeeh qu'è ch'ate tu avermocci and andiamo tutti lì ho fatto sbagliato stavolta per mia monna F***** ALLAH AIKBAR Bel bait di Garen Oh cazzo Ci sono ragazzi, ci sono Però dici le cose Surprise motherfucker Vai ci sono i blitz Attenzione, attenzione Nooo C'è, morta Ragà venite mid Ce ne prendi uno Oh mi scorto ogni quanto c'è sta Ci sei? Perchè fai, Garen? Nice Ups Guarda come stanno tiltando, raga Dove stanno? No, raga Io decollo, raga, non ci sono No, via, 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 via Via, via, Drake, Drake Vieni qua, come, come, come Una cura solo per te Oh, gentilissimo Ma tu non ci hai fatto la Warmog? No, no, vai a farti 3 La Warmog è inutile, dillo Robè Robè, il Drake Oh, pensavo toggiasse Purtroppo, non so ne cosa hai d'oggi Ragazzi questi qua, andiamo via, via, via Pfff Prendono sempre a me, non è possibile Robè, te li scudo io Io muovo, se devo andare a becco Nooo 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 Te, Jinx, te ti devi muovere dove andiamo noi, comunque L'ho capito, stavo uno contro uno Buono Eh, non ho più Non devo stare indietro, tipo, e devo stare, non davanti Dai, ora gioco serio, dai Anche prima l'hai detto No, prima l'ho detto gioco serio, ho detto mi conciugo di più Perchè L'ultime parole, vamos Ecco Ok Devo giocare fermo Giochiamo E' finita, cioè Io non gioco serio perché l'ho nel dozo Oddio, no, Ivan No, Ivan, no, Ivan, tu sei Zed rincarnato, pass Eh, poi l'ho ti dico Eh, poi l'ho ti dico Ok Oh, qui Preso Eh, va, eh, no, è stata l'ultima, non importa Va, va Va, va Di Baron Sì Proprio per sfottere lì a cattiveria Proprio, ma vi è piaciuta la mia Sì, sì, sì Tu sei bravo con Zed, sei bravissimo Invece fai cacare la minchia, cosa? No, 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 no Ok, mi sto concentrando al massimo Se non prendo S mi erro No, io la prendo S, cosa c'è 5-8 Ehi, everybody Everybody top no Eh, io andrò, non avendo che io Andiamo, Karim Eh, andiamo, andiamo, andiamo Ah, caro, io sono full build Uuu, eccolo No Arrivo, arrivo, arrivo Vengo a pulire, raga Vengo a pulire, raga No, c'è io rovi Andai Oh, raga, l'inibito è rotto Comunque fatti, dovevi farti anche una marmortis su Zed Eh, ti sgraffa Oh, oh, oh What? 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 Come ha shottato? Brogare RAAA RAAA Raga, è molto segno se comunque il baron ha costito ridacciamo, eh Guarda, raga, ma c'è, mi ha shottato come stai, non ho capito come hanno fatto Capita, ma no, no, no Na 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 E fu così che perdemmo la manca Vieni via, vieni via, vieni via, vieni via, eh vabbè Te l'ho detto di vieni via No, non me l'ho fatto fare, ma te l'avevo detto di vieni via Facciamo al morto questo adesso Ma devi farti la prima Me frega Ma bene Voglio danni Raga, c'è raga, sono 21,75 E' 118 Minion Ok, inizio a farmare Ok, inizio a farmare Ho 23 di stack Lucchissimo Oh, riesci a grabarlo Non è più lì, eh Dici Oh, qui Guarda 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 Eh, volevi, eh Guarda Guarda которое Avr allora Va Ora vai no oh oh raga mi sfortuno non trash mi sfortuno oddio che nervi trash maledetto sbagliato ah ho fatto un grappolo arrivo top top sfondiamogliela sfondiamogliela tutta dai parte rossi trinitiamo prima che finisce trinitiamo dai è successo tu lui lui bravissima jinx vai 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 bai 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 tai il nostro Gigi ho vinto Ok grazie per aver visualizzato i video Puoi seguirmi sia su Facebook Che su Youtube Ovviamente caricherò altri video del genere Tranne su Twitter Che ci sarà al più presto Ciao e alla prossima